E' partito da Dongo il 28 luglio 2013 e per oltre due anni ha girato il mondo con una bicicletta vintage dall'Europa al Sud America passando per Asia e Australia. Oggi è tornato a casa in Alto Lago dove ha ritrovato amici e parenti pronti a festeggiare l'impresa. E' l'avventura di Enzo Mazzucchi, 42enne di consiglio di Rumo, impegnato dal 2013 in un singolare giro del mondo su due ruote. Ho sempre amato viaggiare e avevo il desiderio di vedere il mondo, racconta Mazzucchi. Prime tappe in Europa, dalla Germania alla Grecia, passando per Polonia, Austria e Balcani. Quindi dalla Turchia dove ha trascorso un mese lavorando in una fattoria Enzo ha attraversato il Medio Oriente e i paesi dell'ex Unione Sovietica per raggiungere la Cina. E poi ancora ha pedalato in Laos, Vietnam, Cambogia, Tailandia e Malesia da dove ha preso un aereo per l'Australia. Da lì dopo tre mesi un altro aereo, questa volta diretto in Sud America, attraversata da Sud a Nord. Infine ritorno in Europa, toccando Spagna e Francia per poi dirigersi verso l'Italia. Tanti paesi, tante persone, un viaggio lungo e intenso documentato in parte anche sul blog Biciclenzo. Sicuramente porterò per sempre nel cuore l'Iran, racconta Mazzucchi. Ho trovato persone meravigliose che mi hanno aiutato e mi hanno fatto sentire a casa. E così dopo oltre due anni è finito il giro per il mondo su due ruote di Enzo. Il ritorno a casa è stato emozionante, mi sono commosso quando ho passato la Dugana e sono entrato a Porlezza, racconta Mazzucchi. Viaggiare e vedere il mondo è bellissimo, ma tornare a casa è altrettanto bello. Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti